Parole che non stanno, non c'erano niente. Mi dispiace perché Brignoli l'ho visto crescere perché era anche a Tomezzani con me. Quando è venuto qua gli ho dato qualche pacca sulla spalla per farlo crescere, però evidentemente non è servito perché qualcuno che ha lavorato sotto Traccia c'è riuscito anche con me. Senti, un'ultima cosa, sotto la Curva Nord perché sei andato? Perché era anche l'anno scorso, la Curva Nord più della Curva Est mi ha attaccato. Siccome le cose come le so perché il Terni è una cittadina piccolina, qualcuno che va alla Curva Nord invece di andare a mangiare con i giocatori o qualche dirigente vi fasse per le fere benissimo allo Stato perché la Terni non ha bisogno della sua gente.